ciao a tutti ragazzi sono pesche92 siamo su diablo immortal è finita la stagione vecchia siamo nel nuovo pass battaglia stagione 3 che va dal 4 agosto al primo settembre lo vediamo così giusto insieme nel mentre prendo le prime due ricompense diamo un'occhiata veloce al pass che per sbloccarlo vi ricordo ma sono 5 euro dove prenderete queste due ricompense oppure 15 prenderete queste ne approfitto per riscattare questo e torniamo al pass ve lo faccio vedere velocemente poi se c'è qualcosa che vi interessa magari potete stoppare il video così potete vedere quello che tratta materiali di scarto le solite scorie e le soliti emblemi e le alze le solite scelte di gemme le solite chiave dell'aspirante insomma un po di tutto poi ci sono le moglie di chat e la pietra di forgiatura misteriosa bella questa armatura e poi alla fine vabbè il don della fama e finisce così inoltre dopo aver raggiunto il grado 40 del pass puoi aprire un dono della fama ogni 180 punti battaglia ottenuti quindi questo ragazzi è il pass battaglia nuovo che durerà fino al primo di settembre qui coscrivo giusto per ok tutta roba nuova molto bene e quindi ragazzi per questo video è tutto vi ho fatto vedere il pass battaglia ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao